Oggi siamo ad Arezzo, sono in compagnia di Alessandro Caneschi, titolare della Bici Servizi, azienda con esperienza trentennale che si occupa di progettazione, produzione e di fornire servizi per tutto ciò che ruota intorno al mondo degli orafi. Orafi e non solo. Sì, fortunatamente sono alcuni anni che ci occupiamo anche degli accessori moda, di tutto quello che è legato alla moda e alle varie esigenze di questo settore, fortunatamente. La Bici Servizi copre, garantisce servizi anche ad aziende come Gucci ad esempio, brand internazionali. Quali sono le caratteristiche che si devono garantire per soddisfare le loro esigenze? Innanzitutto, essendo marchi di fama mondiale che fanno della qualità il loro cavallo di battaglia, la qualità è richiesta anche a noi. E poi c'è l'organizzazione che serve dal punto di vista logistico, dal punto di vista tecnologico e dal punto di vista anche della manifattura. Quindi è richiesto anche un certo numero di personale per poter poi soddisfare le loro esigenze. La velocità di esecuzione, la Bici Servizi la garantisce coniugando un'anima artigianale a un mondo invece fortemente innovativo. È questa la chiave? Sì, sicuramente. Negli ultimi anni abbiamo puntato molto sull'innovazione tecnologica con le stampanti 3D, con la prototipazione rapida, riusciamo a esaudire le richieste necessarie al mondo della moda, in particolare la velocità che richiede. La moda è sempre in fermetto. E poi anche per le nostre lavorazioni classiche, tutti i macchinari di nuova generazione dove l'operatore è un po' meno presente dal punto di vista manuale ma riesce a guidarle tramite computer, tablet, tutto altamente tecnologico. Parlando di velocità e fermenti, sappiamo che il mondo della moda sia legato alla stagionalità quindi con prodotti che cambiano sempre, vetrine in continuo allestimento ma è l'eccellenza che fa la vera differenza, giusto? Sì, sicuramente, come abbiamo già detto, la qualità è la loro prima esigenza e poi sicuramente la moda, le stagioni sono infinite, sono diventate quindi per la moda c'è sempre richiesta di velocità, richiesta di prodotti forniti sempre più velocemente specialmente nei momenti delle sfilate, nei momenti di presentazione dei campionari. Noi fortunatamente, grazie alle nostre macchine, alle nostre tecnologie, penso che riusciamo a stare di abbastanza dietro. Macchine innovative e materiali completamente made in Italy, scelti e selezionati da voi per rispettare i più severi criteri di eccellenza. E allora grazie Alessandro Caneschi e buon lavoro. Grazie a voi di essere passati.